Sono iniziati ieri all'Aquila i prelievi salivari sugli studenti per l'iniziativa anti-covid che prevede un monitoraggio costante su alcune scuole sentinella. Sono coinvolte in Abruzzo scuole primarie e secondarie di primo grado. Il Dipartimento regionale sanità coordina la raccolta e l'elaborazione dei dati che consentirà di avere un quadro su un campione ma indicativo di come vanno i contagi nelle scuole. In totale gli studenti coinvolti sono 1.142 di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Saranno sottoposti a testo ogni 15 giorni attraverso un tampone salivare molecolare. È il personale ASDA a recarsi nelle scuole per i tamponi. In città i primi test sono stati effettuati all'istituto comprensivo Mazzini ma anche al collodi di Avezzano coinvolgendo circa 250 studenti in totale. Campioni che poi vengono analizzati dai laboratori degli ospedali di Pescara, l'Aquila, Avezzano, Teramo e del centro di studi e tecnologie avanzate dell'Ateneo di Chieti perché ovviamente ci sono altre scuole coinvolte in questa iniziativa in tutta la regione. La fase preliminare del monitoraggio è di due mesi. L'adesione ai test è stata molto alta. È un fatto molto importante perché ci permetterà di vedere in una maniera decisamente semplice come quella del test salivare che comunque è un test molecolare a tutti gli effetti, di vedere quello che è l'andamento epidemiologico del covid-19 e ci permetterà di avere una risultanza completa di quello che sta avvenendo nel nostro territorio. L'idea è quella di ruotare su quelli che sono le classi. Devo dire che abbiamo avuto un'adesione da parte dei genitori, dei ragazzi, un'adesione altissima che ha sfiorato l'80% grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici e questo ci permetterà di ruotare e quindi di avere ancora un controllo maggiore della situazione. Ci richiamo attualmente noi nelle scuole perché diamo le prime indicazioni. Successivamente si potrà effettuare anche a casa, attenderemo anche disposizioni da parte regionale. Il test è semplicissimo, è un test, posso dire, una spugnetta da masticare senza alcun problema, molto rapido. Le persone interessate sono 250, cioè effettuiamo 125 prelievi sulla zona di Avezzano, 125 prelievi sulla zona di L'Aquila che poi trasmettiamo al nostro laboratorio di riferimento che procederà alla processazione del tampone e poi ci comunicherà i risultati e in base a quello noi potremo verificare se ci sono state positività.